... Eccoci, allora, i negozi alla domenica li vogliamo aperti o li vogliamo chiusi? Perché il Movimento 5 Stelle propone di chiuderli, la Lega dice sì, ma non nelle città turistiche, che tra l'altro, apro una parentesi, in Italia non è tanto facile distinguere le città turistiche da quelle che non lo sono. Però questi sono dettagli di una proposta che fa discutere, perché mette in contrapposizione due diritti diversi. Voi da che parte state? State con i lavoratori che magari hanno voglia di stare a casa la domenica con la loro famiglia o state dalla parte dei consumatori che invece vogliono andare a fare la spesa quando possono oppure semplicemente quando ne hanno voglia, anche di notte, sì, anche a notte fonda, guardate. Per cercare di fare la spesa insieme, allora almeno durante la settimana lavoriamo, l'unico modo per stare insieme è questo. La notte. La notte. Sempre più persone fanno la spesa la domenica e la notte. Ci troviamo a Roma, nel quartiere di Torpignattara e alle mie spalle abbiamo uno dei supermercati che sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E che compra di solito la notte qua? Compra tutto, quello che serve, la frutta, la carne, la verdura, il pane, tutto. Quando serve, serve. Vedi, guarda io, lo compro il shampoo di notte, non sono aperti, è bene così. Sei favorevole o no alla chiusura dei negozi la domenica? Allora, guarda, devo dirti, sì, sono favorevole, nonostante, certo, è una cosa molto comoda per molte persone, però lavorando anch'io delle volte la domenica mi rendo conto che sarebbe bello, insomma, stare a casa. Chi lavora, poi la domenica giustamente va al centro commerciale, però chi lavora nel centro commerciale non va bene. La domenica è l'unico giorno che posso fare qualcosa. Voi andare al centro commerciale? Per forza. E io lavoro tutto il giorno, quindi purtroppo sono costretto anche io, insomma, a venire qui in orari, insomma, un po' impensabili. Prima chiudevano alle 8, mi trovavo malissimo e quindi ho l'ottavo. Fare la spesa a mezzanotte è bello. Sì, è bello. Insomma, qualcuno piace, qualcuno invece ci deve andare perché il resto della giornata lavora, però se, diciamo, andiamo in questa direzione, poi il rischio è anche diventare un po' schiavi del lavoro. Di questo vogliamo parlare. Caterina Collovati, buongiorno. Buongiorno, collega, ben ritrovata. Grazie. Saluto anche collegati Mario Adinolfi, direttore della Croce. Buongiorno, buongiorno Adinolfi. Buongiorno. E Carlo Rienzi, del Codacons, associazione dei consumatori. Buongiorno. Buongiorno Rienzi. Allora, parto da Rienzi. Giusto o sbagliato tornare indietro sulla chiusura dei negozi alla domenica? Ma è assurdo tornare indietro di dieci anni in una situazione di questo genere, a parte il problema dei lavoratori, ma è stato chiesto a quei lavoratori precari, interinali, che fanno la fila per poter lavorare la domenica, invece di andare a bighellonare nelle piazze, anche incorrendo in qualche episodio sgradevole, se vogliono lavorare oppure no. Cioè lavorare la domenica significa essere pagati di più, arrotondare quindi lo stipendio. Si fanno comunque turni, quindi se si lavora la domenica non si lavora un altro giorno della settimana. E poi come si può pensare che per esempio i grandi megastore, cioè o li fate chiudere oppure li dovete tenere aperti la domenica, perché quelli lavorano sostanzialmente, sostanzialmente la domenica, da lunedì a verdina non fanno niente. Questo per non dire del problema dell'e-commerce che sta distruggendo tutto il piccolo commercio. Comprare le cose online, non so se voi a casa già lo fate o lo fareste di più se i negozi fossero chiusi la domenica. Rienzi, una domanda rapidissima, poi parliamo dei lavoratori perché chiaramente l'abbiamo chiesto ai lavoratori e vi facciamo sentire cosa hanno risposto. Secondo lei è una mossa anche diciamo economica e politica contro i grandi magazzini a favore dei piccoli negozi? Ma no, perché è assolutamente impensabile che chiudendo la domenica si avvantaggino i piccoli negozi. I piccoli negozi saranno svantaggiati da questa chiusura e sarà svantaggiata l'occupazione per i tantissimi, migliaia e migliaia di lavoratori che lavorano nei grandi megastore dove, ripeto, si lavora soltanto la domenica. Quindi mi sembra una mossa un po' elettormica. Adesso vediamo le altre opinioni. Intanto chiedo a Roberta se mi mette qua la grafica dei posti di lavoro a rischio perché tra poco ovviamente ne parleremo. Sono solo nei megastore circa 50.000 persone. Però questo è un lato della questione. A Dinolfi ci sono anche altri aspetti? Lavorare o no la domenica? Ovviamente ci sono non solo altri aspetti, io penso che anche sull'impatto economico. L'idea del riposo festivo, del riposo settimanale collocato alla domenica non sia un'idea che nel passato, che non è un passato remoto, è una storia di dieci anni fa, provocava tassi di disoccupazione così elevati. Anzi, tutt'altro, noi avevamo dieci anni fa tassi di disoccupazione molto più bassi di quelli di oggi. Perché agganciato al riposo festivo c'è un elemento valoriale inevitabilmente, che è quello di privilegiare la dimensione familiare e di consentire ai lavoratori di avere. Lo ha fatto anche una grande catena di supermercati facendo una pagina di pubblicità su questo, dicendo che è interessante che per i nostri lavoratori ci sia prima la qualità della vita, prima la famiglia, poi la dimensione meramente numerica di essere rotelline di un ingranaggio che produce denaro. Io sono cresciuto da ragazzo con il deserto la domenica, non c'era nulla aperta la domenica e non ricordo il disagio così terribile, anzi, forse ricordi positivi. Mangiavamo un pane un po' più duro la domenica, c'era papà che lo benediceva o nonno, accadeva questo, c'erano dei valori più radicati. Posso chiederti una cosa, direttore, però? Con famiglie più salde c'è un'altra cosa che succede, nascono più figli. A me la domenica passata al centro commerciale mette addosso una tristezza. E tu dici, la domenica si può fare altro. Insomma, molto altro. Bravo, molto altro. Stare bene in famiglia. Io ricordo che da ragazzo me ne andavo a cercare le ragazze a Via del Corso e non era un male, insomma. Ti faccio una domanda però, tu dici la domenica. Arrivo Rienzi, un secondo. La tua mamma... La ragazza non le trovava. La tua mamma di Nolfi. E qualcosa, sì, ho fatto tre figlie, quindi ho contribuito alla ricchezza del paese, diciamo. Con o senza le domeniche aperte o chiuse. Con o senza i negozi. Complimenti a da di Nolfi. Il punto però è, tua mamma di Nolfi lavorava... Nella madre era una casalinga. Quindi andava a fare la spesa durante la settimana. Andava a fare la spesa durante la settimana, ma fare la spesa il sabato, voglio dire che è una cosa che io faccio con mia moglie è una cosa che faccio abitualmente è normalissimo è una cosa che le famiglie fanno l'e-commerce vince comunque non è che la domenica si fanno gli acquisti di e-commerce perché trovi il market store chiuso la dimensione dell'e-commerce è una dimensione che ha una sua forza intrinseca, non viene stoppata dalla chiusura domenicale io dico che c'è una dimensione valoriale che si tramuta anche in valore economico che è provato da dati economici dieci anni fa la disoccupazione era più bassa e indubbiamente dieci anni fa il piccolo esercizio commerciale era più forte e più fluido non vedo oggi questi grandi vantaggi nella dimensione attuale questa visione strappalacrime di Adinolfi che la famiglia si salva se la domenica i negozi sono chiusi sinceramente mi fa mi lascia un po' allibita io invece punterei l'accento sul fatto che questo governo parte 5 stelle dal Cotè 5 stelle ci propone il cambiamento ma altro non è che un arretramento ecco questo continuiamo a dire il governo del cambiamento io non vedo nessun cambiamento e soprattutto Di Maio aveva promesso di far ripartire l'Italia con i posti di lavoro ha cominciato a segare i posti di lavoro con quella idea di cancellare la pubblicità delle scommesse facendola passare e quindi con tanti posti di lavoro persi per quanto riguarda il mondo del calcio il mondo delle tv private eccetera facendola passare come una cosa moralizzante del paese così vuole fare No caro Francesco questo è un altro tema ma io su quello sono abbastanza agguerrita non è così perché quelle erano erano situazioni che comunque registrate con carte di credito mentre allora perché non togliamo le macchinette dai bar ma questo magari ne parliamo un'altra volta la storia dei centri commerciali cioè il governo secondo me non si deve occupare dell'aspetto sociologico e psicologico delle famiglie il governo deve pensare a dare stipendi nelle tasche degli italiani e i centri commerciali fanno questo però posso c'è un messaggio che ci arriva da Facebook Lucia Mauro lo vedete dice se è meglio che stiano chiusi io conosco tante persone che fanno il turno di domenica e tanto vengono pagate sempre uguali questo è anche vero Rienzi cioè nel tempo ho letto stamattina la statistica che quando si sono aperti i negozi la domenica per convincere i lavoratori a lavorare gli si è dato più soldi ma adesso che non c'è lavoro gli si dà gli stessi soldi cioè meno soldi allora il problema sono i controlli ecco certo vorrei dire una cosa sulla storia del gioco d'azzardo il gioco d'azzardo produce malattie stiamo sulle domeniche scusa meno male che c'è il divieto di pubblicità stiamo un attimo riguardo le domeniche se non si controlla che i lavoratori vengano pagati come si deve cioè con gli straordinari più del necessario quindi con una somma superiore a quella ordinaria e non si controlla che non si facciano ricatti per farli lavorare e quindi non ci sia una violenza è chiaro che poi ci sono dei problemi ma che la famiglia debba avere i negozi chiusi per essere unita caro Adinolfi ma che stiamo scherzando la famiglia se vuole stare insieme o i negozi sono aperti o sto chiusi ci sta insieme lo stesso se vuole andare insieme in un grande magazzino va insieme lì ma che stiamo Mario possiamo mai condizionare il problema della famiglia con l'apertura dei negozi ho un'opinione diversa io penso che sia un elemento di i consumatori hanno diritti che non possono essere cancellati da un giorno all'altro perché qualcuno allora se è un motivo religioso bisogna chiudere tutto anche i ristoranti gli alberghi le trattorie cioè se è un motivo religioso se invece è un motivo propagandistico allora andiamo avanti e questo è un altro bel punto però intanto voglio una replica da Adinolfi io penso sia un motivo valoriale cioè indicare una dimensione valoriale nello stare insieme nel giorno del riposo festivo questo non è però perché i medici non possono stare con la famiglia il puntare sulla dimensione del consumatore è sempre un po' svilire l'essere umano l'essere umano è persona persona vuol dire persona in relazione non è consumatore non è la sua principale caratteristica io penso che difendere l'elemento valoriale della persona in relazione nella sua principale relazione che è la relazione familiare nel giorno in cui tradizionalmente noi tutti anche Rienzi siamo cresciuti con l'idea della domenica trascorsa in famiglia e che quell'elemento sia carico di ricordi per ciascuno di noi di questo ne sono certo poi possiamo fare propaganda quella sì per i tempi odierli cominciamo con dire che non è vero che i lavoratori dei centri commerciali non hanno mai una domenica ci sono dei turni la verità è che ma Adinolfi Adinolfi voglio sentire un articolo Adinolfi ma comunque ci sono 16 paesi in Europa paesi molto più piccoli dei nostri non mi sembra di urlare che hanno le aperture domenicali io dico ma vogliamo occuparci una volta perdute della disoccupazione che andrebbe a crescere con i centri persiamo i centri commerciali fuori città i centri commerciali fuori città ma come si raggiungono in settimana si raggiungono la domenica e anche per il turista il turista che viene in Italia e che conosce e che il turista che viene in Italia a noi serve permettimi Adinolfi di dire che serve perché qui i valori la Lega ha detto le città turistiche no no ma i centri commerciali caratteristiche e forse sapore dell'esperienza in Italia allora allora questo l'Italia è una terra diversa dall'idea del centro commerciale aperto 24 ore il mondo è cambiato le chiese le visichiamo lo stesso ma l'aggregazione esiste allora vi fermo un attimo vi fermo un attimo mi preme di una cosa il turista non va nei centri commerciali questo è sicuro però comunque è vero che con questa norma si creano un po' lavoratori di serie A e di serie B Silvia ci scrive se chiusi allora chiusi anche ristoranti bar, pizzeria altrimenti tutti aperti perché non si capisce perché qualcuno debba lavorare e qualcuno non debba lavorare in qualche città si debba lavorare in qualche città invece non si debba lavorare non si capisce come dovrebbe essere questa norma e soprattutto non si capisce che impatto avrà sull'occupazione guardate voi che lavorate in un centro commerciale la domenica è un giorno importante è un giorno importante perché essendo giustamente chiusi tutti i dati dei negozi qua è il giorno dove lavoriamo di più e a volte abbiamo la coda proprio fino e fuori del negozio Maurizio è il titolare di una tabaccheria e ricevitoria che si trova all'interno di un centro commerciale di Genova che orari fate voi? tutta la settimana dalle 9 alle 21 e festività? festività sono rimaste 5 durante l'arco dell'anno chiudendo la domenica poi dovrò fare affronte anche a dover lasciare a casa una persona non sono una domenica sono 52 domeniche certo la domenica piace tutti stare a casa con la famiglia andare in giro andare allo stadio andare al mare però è da valutare poi se mi vengo non conto con l'affitto va bene anche la chiusura e in quante persone lavorate in questa attività? sono 6 e con la chiusura la domenica una rimarrebbe a casa quindi restereste in 5 5 esatto e una persona vuol dire anche una famiglia esatto una famiglia eh sì allora questo è un caso questa è una storia quella di un tabaccaio che dice io la domenica faccio tanto del mio fatturato è una storia quanto conta dal punto di vista statistico poco ma conta per questa persona allora voglio sentire Rienzi arrivo arrivo voglio sentire Rienzi Adinolfi dice però una cosa che è molto efficace dice dieci anni fa i negozi erano chiusi e lavoravamo tutti o c'era più occupazione ancora perché adesso dovremmo perdere occupazione perché Adinolfi si è scordato negli ultimi dieci anni sono state talmente tante crisi economiche e bancarie che la disoccupazione è aumentata cioè la disoccupazione è aumentata enormemente i giovani praticamente non lavorano proprio più qualcuno lavora proprio con questi lavori interinali mettendosi in fila per poter lavorare la domenica il problema mi sembra che l'ultima posizione di Di Maio non sia sbagliata quella di dire uno su quattro cioè se al centro di Roma che è pienissimo la domenica si può stare aperti se sul mare quando è estate si deve stare aperti o si può stare aperti è inutile stare aperti in altre situazioni in altre città quindi va fatta una cosa fatta bene dove poi i comuni e le regioni possono aiutare a capire dove chiudere e dove no poi ci sono i turni non è che uno lavora tutte le domeniche quindi andrà una domenica con la famiglia e con Adinolfi si incontra con Adinolfi su una spiaggia deserta perché sarà tutto chiuso naturalmente in piazza in piazza in piazza a bere un caffè è un'altra domenica ma no caffè no no a portarselo da casa col termos si porterà la cuccuma col caffè da casa invece ci sarà un'altra domenica in cui si lavorerà con i turni Adinolfi e la sua famiglia potrà trovare il caffè se va la domenica a fare la passeggiata se no si spererà pure lui Adinolfi Adinolfi io penso che il progresso il tentativo del governo allora la proposta della chiusura domenicale è una proposta del movimento popolo della famiglia che presiede quindi conosco molto bene i dettagli di questa proposta è stata copiata ora in Bassardilla ci sono state due proposte diverse adesso in realtà sono state depositate quattro disegni di legge due del governo due della maggioranza adesso c'è la proposta della turnazione del 25% questo è convincente il ministro Centinaio ha proposto ma non nelle città turistiche che spiegatemi qual è una città non turistica il problema del governo è sempre questo di avanzare a parole un elemento di principio ma di non saperlo tenere qui o il principio vale cioè ho ragione il popolo la famiglia ha ragione o ha ragione Rienzi ha ragione la Collovati quindi non esista la turnazione allora il 25% mi fa sorridere allora non è un problema allora qual è il punto mediano d'incontro che fa contento un po' Renzi un po' Adinolfi qui il problema è un principio esiste il diritto del lavoratore al riposo festivo nella sua dimensione familiare e questo è un valore per il paese che si trasforma anche in valore economico secondo me sì se non vale se questo principio non vale se Adinolfi è un pazzo talebano che dice cose allora non vale per nessuno è chiarissimo è chiarissimo come dice Renzi tutto aperto sto governo che fa le cose metà in metà non ha senso i principi o si difendono e non si voglio un intervento rapido Caterina su un punto che sottolineavi prima